Realizzare alloggi universitari nell'ex sartoria militare in via Colombo è l'idea lanciata dai consiglieri comunali di minoranza Giulia Piroli, Sergio Danino e Luigi Rabuffi, riuniti nel gruppo alternativa per Piacenza. Il fabbricato è in situazione di forte degrado, oggi al di là della cancellata con il cartello limite invalicabile ci sono rifiuti e sterpaglie. L'immobile è di proprietà della difesa ed è dismesso. Un tempo i locali erano abitati da una decina di nuclei familiari, restano dunque l'incuria totale e l'ennesimo emblema di un'area inutilizzata in piena città. Da qui la presa di posizione degli esponenti di minoranza che hanno presentato una mozione urgente per impegnare la Giunta Barbieri a promuovere tutte le azioni necessarie a rendere finalmente fruibile questa struttura, a partire proprio dall'idea di ricavarne alloggi universitari a due passi dal campus della Cattolica in via Emilia Parmense. All'ordine del giorno c'è infatti il problema della carenza di abitazioni per studenti accentuato dalla partenza del nuovo corso in medicina in inglese con una larga fetta di iscritti provenienti dall'estero.